Fortnite ha appena aggiunto una skin a 0vbac gratuita per tutti i giocatori, oggi vi dirò come provarla in anteprima, ancora prima che esca nel negozio oggetti di Fortnite. Aspetta, 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 so che sicuramente non mi crederai e non crederai appunto che c'è una skin gratuita disponibile per tutti quanti. Infatti ragazzi per questo vi dico che dovete mettere like in questo momento, iscrivervi al canale se lo avete fatto e soprattutto guardare il video fino alla fine perché appunto vi spiegherò tutto quanto. Tant'ora io me ne vado perché mi sono rotto di questo qua che mi sta sparando e vi voglio appunto dire come riscattare questa skin. Ovviamente se non siete iscritti al canale non potete riscattarla, mi sembra la cosa più ovvia del mondo e anche se non avete messo like ragazzi, mi raccomando il like è gratis, almeno 50 like in questo video. Ma ora appunto come si riscatta questa skin? Mi sono messo Mystic, ovvero la mia skin, non a caso perché per riscattare, per provare in anteprima mondiale la nuova skin gratis dobbiamo avere Mystic. Ovviamente ragazzi per chi non ce l'ha tranquilli che ve lo farò vedere io proprio in questo video. Siamo venuti a Pinnacoli infatti anche qua non a caso, niente a caso praticamente in questo video. Prima di andare avanti saluto Mario Boiano che ha shoppato John Cena col codice NAXX, vi ricordo codice NAXX con 2X nello shop se volete supportarmi. E fate un video appunto mentre shoppate per essere salutati. Mi raccomando raga codice NAXX nello shop. Credo proprio che questo guanturampino mi farà molto molto comodo, infatti devo appunto dirigermi al palazzo centrale di Pinnacoli perché appunto lì si trova ragazzi un NPC che praticamente ragazzi molti di voi diranno sì ok ok lo so che con Mystic posso trasformarmi negli NPC fin lì c'ero arrivato ma allora perché ho fatto questo video? Beh non a caso ragazzi neanche questa cosa qua perché questa skin non è mai uscita su Fortnite, la gente assicuratore. Come verete ragazzi la nuova skin dell'evento estivo di Fortnite e se praticamente io la vado a killare intanto vi faccio vedere raga che Mystic col suo balletto si trasforma nella skin default se non avete ucciso nessuno. Ma se praticamente andate ad uccidere qualcuno tra l'altro ha pure un sacco di vita questo boss probabilmente usa il codice NAXX con 2X 100% raga ok sta pure scappando ma cosa scappi? Cosa cavolo scappi? Killato raga andiamo a fare di nuovo il balletto e guardate un po' ragazzi guardate un po' oh mio dio oh mio dio raga. Ho una skin che non è ancora uscita su Fortnite, cioè raga non è mai uscita nello shop e io la sto utilizzando ragazzi in anteprima. Cioè ma di cosa stiamo parlando? Ovviamente solo per tutto il game, finito il game non ce l'avete più mi sembra la cosa più scontata ma comunque ve la dico. E ora sicuramente ragazzi volete sapere perché il video ancora non è finito? Infatti la durata beh ancora dura un pochino il video perché adesso andremo a provare una mappa di V-Buck gratuiti. E stavolta dicono pure che sia reale, non ci resta che scoprirlo. Innanzitutto tra l'altro gioco anche un pochino ragazzi con questa skin perché sinceramente mi piace un sacco ragazzi è tipo jolly ma versione estiva ragazzi cioè veramente spacca troppo questa skin. Ok sinceramente il nome di questa mappa non è che mi convince molto ed è per questo che dopo ne proveremo anche un'altra perché questa mi sembra molto molto fake ragazzi rispetto alle altre. Ok siamo spawnati praticamente in questa stanza molto sospetta devo dire con praticamente delle cose che ti fanno andare veloci. Ehm 1000 V-Buck, 13.500 V-Bucks e 5.000 V-Bucks. Devo scegliere, beh ragazzi ovviamente tutti quanti credo sceglierebbero 13.500 ed è per questo che io vado contro le leggi della natura e scelgo 5.000 V-Bucks. Andiamo a tuffarci qua dentro e siamo in una stanza tra l'altro piena di chest che si possono pure aprire e che danno praticamente armi ma sono tutte quante bugate queste chest all'interno del muro. E praticamente credo che questa mappa ragazzi sia completamente bugata ragazzi cioè è semplicemente una mappa falsa ragazzi. Qua tra l'altro ci sono dei cartelli che sono pure spariti ma che cavolo? Scusate ma ah ah ok sono praticamente cartelli trasparenti. No ragazzi questa mappa non mi piace. Andiamo alla prossima perché questa qua ragazzi cioè era tipo super fake. Magari ci ho dato dei V-Bucks in lobby ma non credo proprio ragazzi cioè era proprio fakeissima infatti no nessun V-Bucks ma ora ne andiamo a provare un'altra. Ehm questa mappa se devo dire la verità mi sembra ancora peggio di quella di prima eh non lo so non lo so. Mi hanno detto che sembra reale ma a me non è che sembri molto reale in realtà. Ok abbiamo avviato la partita però e dobbiamo praticamente andare avanti. Qua dobbiamo spaccare questi muri che non si possono editare. Dobbiamo per forza romperli. Cosa sto vedendo? Ma ci sono delle armi mai vi... No aspettate un attimo cioè ci sono le armi di Batman. Ci sono praticamente armi ma che cavolo di armi è questa? Non l'ho mai vista su Fortnite. No aspettate un attimo c'è qualcosa che non va e c'è pure una Renegade Rider. E come cavolo? Sì sì ma come faccio a prendere queste skin e queste cose? No non posso vero? Cioè raga mi sembra abbastanza ovvio che non si può. A quanto pare no. Pure questa mappa è fake. E questo cosa vuol dire? Vuol dire ragazzi che non esistono mappe per avere le skin gratis. V-Bucks gratis. Al massimo qualche mappa che contiene i codici. Può contenere dei codici funzionanti. Ma ragazzi è ovvio che non potete prendere queste cose in creativa. Dato perché cioè non esistono ragazzi. Quindi appunto non potete prenderle. Però devo dire che ha fatto molto molto bene di mettere appunto i distributori così. Perché veramente ci sta un sacco. Proviamo a picconare dieci volte ragazzi la Renegade. L'ho piccolata anche di più ragazzi. Torniamo in Lobby adesso e vediamo se magari ce l'ha data. Ma beh cioè se me l'ha data ragazzi vi giuro che praticamente sono più fortunato di chi vince la lottoria. Oh e infatti non mi ha dato assolutamente niente. Per consolarmi mi raccomando codice creatore Naxx con 2x. Premete accetto ogni due settimane. Stai da solo per reinserirlo. Noi ci vediamo ad un prossimo video. Bella ragazzi.